E anche lo sport sarà protagonista di Procita, capitale della cultura 2022, grazie ad un progetto innovativo che ribadisce l'importanza del binomio sport-cultura. Tantissimi infatti, se notiamo, sono i valori condivisi dell'uno e dell'altro, i due mondi che si intrecciano per l'appunto l'uno con l'altro. Parte dunque il progetto così titolato Comitato Fair Play, ovvero una serie di iniziative rivolte ai ragazzi e non solo, per mettere ancora una volta Procita al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda il mondo dello sport. Entriamo nel merito del dettaglio del progetto attraverso il nostro ospite che vedo già in collegamento, il buongiorno a Carmine Sabia, delegato allo sport del Comune di Procita. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Senta, grazie a lei, ecco parliamo di questo meraviglioso progetto. Nella capitale della cultura anche lo sport diverrà protagonista perché per l'appunto Procita non è solo cultura ma al centro anche lo sport i valori che esso riesce ad immettere. Infatti noi abbiamo voluto accostare la parola sport a cultura nell'anno proprio di prossima capitale della cultura perché crediamo molto nel valore dello sport, crediamo nell'elemento formativo ed educativo, crediamo molto anche nel fattore sociale che può creare lo sport. È un progetto che abbiamo condiviso con il nostro referente che è il professore Gennaro Testa, un professore universitario di Firenze, professore di sociologia e antropologia dello sport, il quale un anno fa ci ha proposto questo progetto che noi come comune e come comunità abbiamo sposato dal primo momento. È un progetto dove gli attori protagonisti sono tutti e non per forza gli attori protagonisti sono dei campioni ma sono le famiglie, sono i giovani, sono i meno giovani, sono le associazioni, le scuole, le chiese. Tutti fanno parte di questo progetto che ha diciamo un percorso. Siamo proprio per l'appunto di valorizzare il mondo dello sport perché effettivamente lo sport è prima di tutto cultura come diceva lei, però possiamo entrare proprio nel merito del progetto Comitato Fair Play, in realtà che cosa prevede, quali le iniziative e i progetti in essere? Certo, allora innanzitutto questo progetto non termina con Procida Capitale, anzi abbiamo voluto spalmarlo nei prossimi anni perché lo sport e cultura non finisce con Procida Capitale ma continua nei prossimi anni, quindi è un progetto a lungo termine. Comincerà a breve con il Comitato Fair Play, il Comitato Fair Play nazionale ha voluto mettere a disposizione un passaporto Fair Play. Come sappiamo il Fair Play, gli elementi fondanti del Fair Play sono il rispetto delle regole e il rispetto altrui, quindi all'interno di questo progetto il Comitato ha messo a disposizione un passaporto Fair Play dove durante gli eventi, i seminari che si faranno secondo un tema, e i temi saranno l'accessibilità, il tema dell'inclusione, il tema della parità di generi, il tema dell'alimentazione, della storia dello sport, tutti quelli che parteciperanno a questi seminari avranno un passaporto personale dove potranno segnare la presenza e a fine corso avranno dei benefit che potranno essere alcune prestazioni anche per quanto riguarda le visite mediche, Quindi è un progetto che va oltre il progetto in sé, naturalmente l'isola di Altru riesce ad incarnare bene il senso di questo binomio sport-cultura, laddove però come ricorda lei un progetto che non si ferma non solo geograficamente a Procita ma anche metaforicamente riesce ad andare oltre e al di là di questo fantastico 2022 perché in questo senso l'intenzione e l'ambizione è di poter attraverso Procita fare un passo in avanti anche nel mondo dello sport. Esatto, poi noi abbiamo voluto allargare questo progetto anche diciamo a tutta l'area flegrea con la partecipazione anche di Monti di Procita, di Bacoli e lo facciamo anche attraverso un corso di formazione per i giovani che saranno abilitati a organizzare eventi sia culturali che sportivi. È un corso che viene organizzato dal Comitato Sportivo Italiano e dal MIUR, quindi è un corso accreditato, è un corso che si fa sia online che in presenza e quindi noi abbiamo voluto allargare, abbiamo voluto coinvolgere anche la piscina Monti di Procita, Bacoli, non dipendichiamo che Monti di Procita il prossimo anno sarà Comune Europeo dello Sport, quindi anche loro hanno investito sullo sport e noi come diciamo piccola entità abbiamo voluto allargare questo progetto anche diciamo all'area flegrea. È importante perché ecco un progetto che è indirizzato sicuramente a tutte le facilità ma soprattutto ai più giovani per avvicinare gli stessi al mondo dello sport e per valorizzare appunto quell'aspetto sociale di cui lei prima parlava che riporta anche alla solidità dei valori ma che è il concetto del fare integrazione. Certo, allora lo sport si deve fare carico di tanti aspetti dello sport come il recupero del disagio giovanile, come delle fragilità, sono tutti aspetti che non sono del mondo dello sport ma che fanno parte dello sport e quindi sono tutti aspetti che noi andremo a toccare con le varie associazioni per attenzionare questi aspetti che sono fondamentali per lo sport. Noi attraverso lo sport vogliamo lanciare messaggi, messaggi alla società civile in modo che lo sport si faccia portavoci di messaggi diciamo importanti. E questo lo si fa anche attraverso, ricordiamo in conclusione una mostra, no? Che sarà protagonista, procida attraverso un secolo di sport a cura dell'International Sport Museum quindi ancora una volta diventa esemplificativo di come l'arte e la cultura possano insieme allo sport restituire i veri valori fondanti della società e guidare appunto i giovani in una vera e propria formazione identitaria attraverso procida ma guardando oltre l'isola di procida. Complimentissimi davvero, abbiamo presentato dunque con Carmine Sabia delegata allo sport del comune di procida questo progetto davvero innovativo, comitato Fair Player. Tante iniziative rivolte ai ragazzi per mettere procida al centro del mondo, della cultura ma anche dello sport. Grazie davvero, complimenti. Grazie a voi, buona giornata, grazie.